Tocca agli esercenti commerciali veneti scendere in piazza contro l'ultimo famigerato DPCM del governo. In piazza Brava a Verona si sono radunati, a distanza erano in molti, pacificamente mascherinati per contestare un provvedimento non solo fortemente penalizzante ma addirittura mortale nei confronti di decine di migliaia di realtà in Veneto, al nord-est e in tutta Italia. Frutto di incapacità e di incompetenza ma soprattutto sprezzante dicono i manifestanti della conoscenza di un settore produttivo che nel caso di bar, pasticceria e gelateria nell'orario interdetto dalle 18 alle 24 concentrano gran parte di attività ed introiti quotidiani. Siamo preoccupatissimi e arrabbiatissimi perché ricade sempre sulle nostre imprese, sulle nostre spalle la responsabilità. Noi abbiamo fatto tutto quello che era possibile per mettere in sicurezza le nostre imprese e dopo aver fatto un grande investimento per adattare le nostre imprese ad accogliere i nostri clienti adesso ci chiudono alle 18. Non è più sopportabile una situazione di questo tipo qua, non è più sopportabile perché le imprese non ce la fanno a superire i costi e quindi non apriranno neanche a pranzo i ristoranti ma anche i bar stessi sono colpiti, le pasticcerie, le gelaterie, le palestre, le piscine. Allora se questo DPCM è fatto così io dico che questo è fatto da gente incompetente perché non conosce il sistema produttivo, non conosce il sistema commerciale e non conosce il sistema della ristorazione o fanno le cose e si consultano con chi ha esperienza ma non sul ristoro. Quando un'impresa è morta il ristoro a cosa serve? Non riapre più? Ecco quello che io dico, a noi non interessa in questo momento i soldi, a noi interessa lavorare, non abbiamo mai chiesto sussidi, vogliamo lavorare.